artista numero 33 marco petillo di salerno si tratta di un artista ormai diciamo affermato sia nella sua regione che in altre regioni ha partecipato a vari concorsi nazionali di pittura e di scultura infatti si tratta di un artista poliedrico questo olio su tela misura 80 centimetri per 60 raffigura il cuore nella natura stessa che è posta in primo piano di fronte al mare si tratta di fusceli d'erba e fiori agitati dal vento della passione che muove le loro esistenze un'opera intensa che ispira la riflessione ma soprattutto ecco l'amore l'amore per il mare per il mare dell'esistenza il mare il cielo e questi fuscelli è fantastica la tua opera marco quindi artista numero 33 olio su tela 80 per 60 votate questo artista numero 33 colori caldi colori freddi riflessione bellissimo mi piace complimenti grazie per essere qua nelle marche marco alla nostra collettiva internazionale di arte figurativa e plastica grazie a tutti